Terza classificata, un'atleta lombarda in maglia Molinello, sei vittorie quest'anno, la dorsale 13, Sara Wackerman, terzo posto. Giuseppe Zoccante, presidente della federazione trentina, che procede alla premiazione della terza classificata, l'applauso per Sara Wackerman, Molinello, Lombardia. Signori e signori, saliamo sul secondo gradino di questo podio delle allieve, in seconda posizione ancora Lombardia, questa volta con la maglia Euro Target, seconda, quattro vittorie già in questa stagione, Angela Maffeis. Ebbene, questa volta, Alessandro Bertolini è il nostro grande ospite che va a premiare la seconda classificata, Angela Maffeis, Euro Target. Signori e signori, Corvo Vassugana, prepariamoci ad accogliere la prima vincitrice di giornata, è andata a conquistare, quest'oggi, la sua attava vittoria stagionale, è una Lombarda bergamasca vicina, campionessa italiana a cronometro, campionessa italiana nell'insiglamento, facciamola più forte questo gol. Signori e signori, Silvia Persico! Paolo Staglia, il direttore sportivo. Paolo Zanglia, Paolo Zanglia, il direttore sportivo del Team Valkar, che va a ricevere il premio assieme alla vincitrice. Previ naturalmente consegnati, in questo caso da Giuseppe Cante, presidente della Federazione Trentina, assieme a Ugo Segnana, presidente dell'Associazione Coppa d'Oro. E allora avanti con la consegna della maglia, tredicesima, Coppa Rosa, Donnellieve, a Silvia Persico-Valkarra. Lombardia, 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 questo recitano i primi tre gradini del podio. Eccolo alla vestizione, già il titolo di campionessa italiana a cronometro, il titolo di campionessa italiana nell'inseguimento. Ed l'ottava vittoria stagionale per Silvia Persico-Valkarra, Lombardia, assieme a Paolo Zanglia, direttore sportivo. Borgo Valsugana, lo ricordiamo, è il gran premio d'Italia dei direttori sportivi. E allora naturalmente abbiamo la Coppa Rosa, che finalmente è arrivata, che è al palco delle pregazioni, che viene consegnata dal sindaco di Borgo Valsugana, Fabio Dalledonne. Signore e signori, ancora un applauso forte per il podio. Terza, Sara Valkerman. Seconda, Angela McFace. Prima, Silvia Persico-Valkarra. Grazie.